My Deutz Far, la app per il tuo trattore. Entra nell'area I miei trattori per gestire il tuo parco macchine e visualizzare gli interventi di manutenzione. Potrai ricevere campagne personalizzate e news. Visualizza il trattore che hai inserito quando ti sei registrato. Puoi aggiungere altri veicoli cliccando qui. Inserisci il VIN per selezionare il modello. Trovi il VIN sulla targhetta identificativa del tuo veicolo, come da esempio immagine. Clicca qui per maggiori dettagli sul VIN. Inserisci i 17 caratteri richiesti e clicca Conferma. Se il VIN inserito è corretto, appare l'immagine del tuo trattore. Clicca su Aggiungi. Ti verrà chiesto di confermare il tuo modello. Ora hai aggiunto il tuo nuovo trattore al parco macchine. Clicca Continua per visualizzare la lista. Ora, dalla lista dei tuoi trattori, seleziona il modello per cui vuoi conoscere gli interventi di manutenzione. Scorri la lista e seleziona la voce di tuo interesse. Verifica tutti i controlli previsti per prenderti cura del tuo trattore. MyDoids Far. La soluzione mobile per il tuo trattore.